L'Atalanta perde 1-0 contro il Real Madrid in una partita che sicuramente verrà ricordata da tutti i tifosi non solo per l'eccezionalità dell'evento ma anche per un arbitraggio parecchio discutibile. Risultato però che non preclude il passaggio del turno ma a questo punto l'Atalanta deve necessariamente vincere in casa del Real. Come al solito faccio alcune considerazioni di carattere personale andando a estrapolare quei 2-3 sentimenti, idee che mi premono, mi urgano di più da condividere. Poi voi nei commenti siete assolutamente liberi di aggiungere, commentare insomma la discussione lo sapete che è aperta. La prima cosa che voglio dire nella speranza magari che qualche giocatore guardi questi video che sono estremamente orgoglioso di quello che ho visto perché io non riesco neanche a immaginare cosa si provi a studiare una partita del genere la partita più importante della vita per tanti giocatori in un certo modo e trovarsi dopo 17 minuti non solo a interpretare una partita completamente diversa ma a giocare in un modo completamente inedito perché quello che ha fatto ieri Atalanta non l'ha mai fatto e per di più farlo in una maniera assolutamente egregia non tradendo il proprio stile di gioco che necessariamente vista la situazione è dovuto mutare ma rimanendo comunque saldo nei principi di poter aggredire non appena possibile e di poter provare comunque a fare male senza la facile scelta di chiudersi dietro. Io ne sono davvero orgoglioso perché credo sia stato uno sforzo disumano e si è visto anche dal punto di vista, si è visto in campo i giocatori che hanno fatto una fatica incredibile a reggere un sistema che per loro era completamente nuovo contro una squadra che pur non avendo magari tutti i titolari non era sicuramente una squadra da sottovalutare insomma Modric, Gross, Casimiro insomma non mancavano giocatori di livello e mantenere quella lucidità e fare una prestazione del genere secondo me personalmente mi ha riempito tanto tanto di orgoglio e non ti porterà la vittoria però insomma credo non sia una cosa che può essere ignorata. Secondo punto su cui credo sia doveroso spendere qualche parola è legato all'arbitraggio. Quello che più fa male è che probabilmente non sapremo mai come sarebbe stata diversamente, lo vedremo parzialmente al ritorno ma la partita sarà comunque condizionata dal risultato dell'andata. Commentare un arbitraggio così sconsiderato è quasi superfluo perché non serve a niente, non cambia i risultati, non serve a nulla rivendicare. Però possiamo fare un esercizio e provare a cavare fuori qualcosa di positivo da una situazione del genere perché secondo me questa sfida, questo handicap ci dà un'ulteriore consapevolezza perché aver giocato in 10 contro il Real Madrid che schierava dei fenomeni e aver resistito egregiamente per praticamente quasi tutta la partita non può essere qualcosa da ignorare. Le prestazioni di certi ragazzi che si sono raddoppiati per poter sopperire alla mancanza di un giocatore non possono essere ignorate. Io penso a Toloi, penso a Pessina, penso a Gosens, a Mela, a Jim City, a Toloi, a Romero. Il lavoro che è stato fatto non può diventare un bel ricordo. Ti deve dare la consapevolezza che sei forte perché questa probabilmente all'interno della nostra stagione è la partita più difficile e nelle partite più semplici che magari girano storte te la devi ricordare questa cosa che te hai giocato contro il Real Madrid e non hai avuto paura e loro non erano così convinti di portare a casa i tre punti. Poi il calcio è un'altra cosa, il pallone è rotondo, gli eventi succedono, il Real Madrid segna un gol che probabilmente se lo ripete 10 volte non riesce comunque a prendere la porta. Non è uno sport meritocratico, il calcio è fatto di occasioni, ma la prestazione, ma il cuore, ma il sudore che ci hanno messo questi ragazzi deve diventare un tesoro e diventare qualcosa di più per la consapevolezza perché secondo me questa squadra non si rende conto ancora oggi di quanto è forte. Infine come esalto i giocatori lasciatemi fare anche una piccola critica che non vuole essere una croce, non vuole essere un giudizio troppo severo, ma va detta. Io trovo che l'atteggiamento di Ilicici ieri sia stato profondamente sbagliato, non era la sua partita, non era il suo modo di giocare, non è il suo stile, non è la sua vocazione, ma ciò non preclude che un fenomeno, un giocatore della sua caratura davanti a nove giocatori che si stanno disperando in ogni modo per arginare il Real Madrid debba avere la capacità di leggere la situazione e capire che anche con risultati magari discutibili perché non è il tuo compito, perché non sono le tue corde, bisogna dare una mano e non perdersi come al solito in una bolla di sapone e addirittura a un certo punto contestare perché i compagni che stanno correndo da 90 minuti come dei matti non riescono a servirti la palla nella mira migliore. Gasperini ha fatto bene a sostituirlo perché un bagno di umiltà serve a tutti, dal più forte al più scarso e sono convinto che Ilicici è una persona intelligente, si farà perdonare, però davvero è stata una brutta cosa perché comunque io mi sono messo nei panni degli altri giocatori che hanno fatto di tutto e hanno magari anche un decimo della qualità che ha Ilicici, neppure loro hanno fatto di più. Io come al solito vi ringrazio per il tempo che mi dedicate, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e per il resto vi rimando come sempre ad atalantini.com Ciao